In questo video eseguirò lo spegnimento, grazie all'aiuto del fido collaboratore che si è della mia sinistra, dell'Alcatel A2 XL, che vi ricordo ha come sistema operativo Android 6, versus quindi contro l'Honor, per l'appunto, View 10 Lite. Sono due smartphone diversi, lo schermo dell'Alcatel A2 XL è più grande rispetto all'Honor, inoltre l'Honor ha come sistema operativo Android 8.1, invece l'Alcatel A2 XL ha come sistema operativo Android 6.06. Ecco, ora chiedo al caro collaboratore che si è della mia sinistra di effettuare, al mio 3, 1, 2, 3, vai, procedi pure lo spegnimento in contemporanea. Mi raccomando, accertati, accertati, mi raccomando che si spengano contemporaneamente, bravo. Ok. Sta procedendo piano piano, perché tanto c'è tempo. Ecco, adesso chiedo, vai, spegni. Piggia nulla, rifallo, rifallo. Ecco qua. Ecco, ha vinto chiaramente l'Honor 10. Bene, è venuto un po' male l'esperimento, però penso che vada bene lo stesso. Grazie, un saluto e al prossimo video.